Miss Italia, 1996, è la numero 54 del 1910! Nel numero 9, Martina Combari! Numero 48, Santa Meloni! La numero 46, Gloria Zanin! La numero 88, Claudia Trieste! La numero 89, Daniela Carolla! Quattro, Claudia Andratti! Numero 18, Stefano Tivoni! 23, Clarissa Marchese! La numero 5, Alice Sabatini! Quattro, Claudia Andratti! Quattro, Claudia Andratti! Quattro, Claudia Andratti! Quattro, Claudia Andratti! Il nostro obiettivo ci ha confessato di essere rimasto senza fiato! Sono le concorrenti al titolo di Miss Italia e di Miss Sorriso! Se ne è pronunciato il verbetto definitivo! Della giuria fanno anche parte occhi cinematografici! Miss Italia 1946 trasmette con la ciarpa l'investitura a Miss Italia 1947! La signoria Lucia Bosè di Milano, 16 anni e mezzo e commessa di pasticceria! La signoria Lucia travels per l'investitura a Miss Italia E' l'ora della verità, la sciarpa di Miss Italia 55 viene recinta Brunella Socci. E' l'ora della verità, la sciarpa di Miss Italia 55 viene recinta Brunella Socci. Sorrisi naturali e spontanei provati cento e cento volte davanti allo specchio. Occhi assassini racchiusi fra due parentesi di Rimmel. Corpi pieni di curve come una strada di montagna. E applausi da parte di una tribù di fratelli e di fidanzati. Dopo la programmazione l'alto dei Paradel Flash. E' il bacio tra le vincitrici Miss Italia Franca Castaneo e Miss Eleganza Marina Crovato. C'è un... Questa è Miss Italia. E' Sarda, si chiama Franca Dall'Olio. Ha 18 anni e Brunella è alta 1 metro e 73 e pesa 59 kg. Frequenta il terzo liceo e conta di laurearti in medicina. E' stata eletta al salto maggiore dopo avere lottato in costume da bagno e in abito da sera contro 49 rivali agguerritissime. Il terzo liceo di 5 finalisti è Miss Italia. Grazie a tutti. Una delle mie perci Naze è Miss Italia. Come. Rihanna di Vigia. Sì, 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 Sì Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go, oh, oh, oh You're gonna leave them all you know Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through Cause baby, you're a firework Come on, show them what you are Rachele Ritaliti, la numero 02! Viene consegnata la corona, la corona La corona, la missいただ, la corona Alice, Alice Alice Alice, la corona Portata dalle nostre guardie giurate Resegniamo la corona Fatti vedere, Rachele, fatti vedere, fatti vedere. E Miss Italia 2016, un applauso! Queste saranno immagine storiche, esattamente come tutte le incorreazioni di Miss Italia. Complimenti, Rachele. Che sia un grande inizio questo per te. Eh, complimenti e ci vediamo l'anno prossimo per Miss Italia 2017. Un abbraccio a tutti e vi ricordo che per fortuna Miss Italia continua!